Musica E' terminata nel migliore dei modi con la presenza del Vice Presidente della Giunta regionale Antonio Viscomi la seconda edizione di Sciabaca, questa manifestazione culturale che ha coinvolto per tre giorni la nostra comunità con eventi di altissimo livello e che ha indotto a riflettere, a ragionare, a capire, grazie a Florindo Rubettino, alla sua intelligenza, alle sue intuizioni, a tutta la casa editrice Rubettino che ha voluto scegliere Soveria Mannelli per svolgere questa iniziativa di grande valore Mi auguro che il prossimo anno, se ci saranno le condizioni, Soveria Mannelli possa di nuovo ospitare questa iniziativa che tende a fare rete Soveria ha questa vocazione di unire, di essere punto di incontro di intellettuali, di idee eretiche e anche perché favoriti dalla posizione geografica, perché dal punto di vista geometrico Soveria è al centro della Calabria e quindi questa posizione che non dipende da noi ma che il destino ci ha assegnato e che chi è venuto prima di noi ha coltivato può essere un'occasione, un viatico per poter ribadire che la forza della cultura è quella del cambiamento Grazie 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 Grazie